Dal momento che le imposte sulla remunerazione dei soggetti residenti in Italia, assunti dalle rappresentanze diplomatiche di stati esteri, vengono versate in Italia, possiamo considerare le ambasciate come sostituti di imposta? E quali sono i loro adempimenti? Iniziamo col dire che la tassazione avviene seguendo i criteri previsti per i redditi da lavoro dipendente. Dunque, gli adempimenti a cui deve far riferimento l'ambasciata sono i seguenti. In qualità di datore di lavoro deve predisporre il libro unico del lavoro, provvedere a versare i contributi all'Inps attraverso la predisposizione e l'invio del modello F24, predisporre e inviare gli uniments, presentare la certificazione unica nel rispetto dei termini e consegnarne copia ai lavoratori e versare i premi INAIL per il tramite dell'autoliquidazione. Dal punto di vista fiscale, la rappresentanza diplomatica non è qualificabile come un vero e proprio sostituto di imposta. Tuttavia, l'effettuazione, su base volontaria, delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, corrisposti dalle rappresentanti medesime, non è in contrasto con le ragioni erariali del nostro Stato. L'ambasciata, infatti, può operare le ritenute IRPEF addizionali, regionali e comunali, ex articolo 23 del DPR 600 del 73, nel rispetto però dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi.